eccoci qua oggi parliamo di quanto ti costano gli errori caro locatore o cara locatrice questo video ho deciso di farlo perché stavo riflettendo in merito a delle considerazioni che mirko gasparotto ha fatto ascoltando un suo video personale era un'intervista un'intervista riservata che è praticamente all'interno di un corso che ho acquistato un corso di formazione e questa intervista mi ha fatto riflettere molto su alcune considerazioni e adesso le voglio condividere con te quindi se non vuoi vedere i video o ascoltare i video noiosi ti consiglio di chiudere questo questo video perché non credo sia noioso ma credo semplicemente che possa essere una bella chiacchierata molto importante che ti darà degli spunti su cui riflettere e ti consiglio comunque di chiudere se non ti va quindi sarà una chiacchierata penso di 10 minuti un quarto d'ora forse 20 minuti e queste cose come sai quelle che ti dico io non te le dirà mai nessuno allora mirko gasparotto un imprenditore che gestisce un'azienda da circa 100 milioni di euro all'anno se non sai chi è vai a vedere quindi è a capo di questa azienda e parlava un po di se stesso delle cose che ha fatto come ha fatto arrivare a dove adesso insomma e mi ha colpito un paio di cose un paio di di sue considerazioni personali che chiaramente non le troverai queste considerazioni qui perché sono appunto come ti dicevo riservate al corso che ho acquistato perché io comunque continuo a formarmi continuo a investire molto denaro su quella che la mia formazione che è molto molto importante questo mi permette di rimanere aggiornato e di poter aiutare tutti i locatori in tutta italia insomma altrimenti rimane indietro la terra continua a girare quindi non si ferma e chi si ferma è perduto dissero quindi mi ha colpito una cosa e disse che per la sua formazione aveva speso un milione e 700 mila euro hai capito bene un milione e 700 mila euro naturalmente è 40 anni che si forma per mirko gasparotto quindi non è due giorni e una volta lui diceva per andare a formarti o formarti in un certo modo dovevi andare dall'altra parte del mondo stravia dei giorni quindi hotel corsi di formazione insomma tante spese e lui nella sua carriera ha speso tutti questi soldi mi ha fatto veramente riflettere quando lui dice queste soldi insomma dice alla gente che ha speso questi soldi qua la gente si meraviglia ma in realtà no perché perché se ci penso i soldi che sto investendo anch'io poi se li dovessi calcolare distanza di 30 40 anni sicuramente saranno tanti non so se saranno un milione e 7 ma sono veramente tanti 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 soldi e allora quello che mi ha fatto riflettere mi ha fatto riflettere su sui locatori sui locatori sugli errori che fanno i locatori quando mi dicono micchi ma la tua parcella è molto molto importante come mai è così importante alcuni si stupiscono di certe parciale altri no perché sono abituati e sono in linea con quella che è una certa mentalità del locatore che vede vede molto in là per altri che non sono preparati si stupiscono allora voi dovete pensare una cosa che nel momento in cui voi decidete di affittare il vostro appartamento e per risparmiare decidete di affidarvi a qualcuno che vi fa spendere 50 100 euro e non ha l'esperienza non ha fatto gli errori che ho fatto io non ha il bagaglio esperienziale che ho io non ha ascoltato le migliaia di locatori che da qui insomma dal 1997 ad oggi non ha avuto modo di ascoltare di capire di entrare nel dettaglio insomma di vivere tutte quelle esperienze che sono determinanti oggi per una scelta piuttosto che un'altra non vi potrà mai mai e dico mai dare quei consigli che potrebbero fare la differenza nella vostra locazione nel senso che se voi ok avete speso 50 euro magari avete la fortuna dico magari di trovare la persona più esperta del mondo che vi fa spendere solo 50 100 euro 150 per la stipula del contratto di locazione ma credo sia quasi impossibile però a meno che non vi tratti da numero quindi cosa succede succede che quelle finezze quelle accortezze che una persona che ha vissuto oltre 24 anni di esperienza non ve le potrà mai dare un'altra persona che non le ha vissute perché cosa paghi tu oggi in una persona paghi l'esperienza paghi la capacità di saper mettere le mani nel posto giusto e saper fare le cose giuste nel momento giusto per quale motivo perché se tu vuoi arrivare alle stesse mie competenze chiaramente dovrai fare migliaia di errori dovrai ascoltare migliaia di proprietari dovrai fare migliaia di contratti di locazione altrimenti non le avrai mai queste competenze qua quindi tu oggi paghi gli errori che una persona ha fatto nel tempo sabato domenica molto spesso mia moglie eravamo al mare con le bambine io mi mettevo a studiare mi mettevo a scrivere mi mettevo a preparare il mio piano editoriale del blog pensavo a che cosa potevo dare al mercato che cosa potevo dire al mercato di meglio per aiutare le persone quindi io quei sabati domenica non sono andato a vedermi la partita non sono stato sul divano con tutto rispetto per chi lo vorrà fare ci mancherebbe però ho fatto delle scelte che oggi mi hanno permesso di un sacco di gente qui gira oggi una bella giornata siamo a fine febbraio e sono oltre 20 gradi a cesena quindi le persone girano quindi che cosa accade accade che tutto il tempo che io investito e sto investendo in questi anni oggi naturalmente deve essere compensato questo tempo perché perché altrimenti uno certamente può far da solo può fare prendere un contrattino stilarselo fare quello che vuole ma non può pretendere di mettere in sicurezza o di blindare una locazione semplicemente perché magari ha letto dieci articoli ha sentito quattro campane ed è convinto di fare le scelte giuste anzi sono proprio quelle scelte lì che tu sei convinto o convinta di fare che poi a distanza di tempo a distanza di mesi ti rendi conto che non sono state le scelte giuste perché dovevi valutare una cosa magari la fiscalità non l'hai valutata dovevi valutare la durata del contratto non l'hai valutata perché non c'è pensato dovevi valutare se dovevi scrivere certe cose nel contratto e non l'hai fatto perché pensavi che all'inquilino andasse bene così non hai valutato che l'inquilino potesse cambiare che il lavoro che lui attualmente fa tu non ci ha pensato quindi ti trovi oggi a dover rinunciare dei soldi perché l'inquilino effettivamente non te li dà oppure ti trovi che hai affittato casa l'inquilino ti chiede la riduzione del canone di locazione per qualche aspetto quindi poi tutti quegli errori queste considerazioni che tu non hai fatto quanto ti costano quindi ti costano veramente tantissimo quindi valuta con attenzione se al momento giusto devi investire una certa cifra per mettere in sicurezza la tua locazione per renderla longeva genuina per fare in modo insomma che inizi con il piede giusto piuttosto che iniziare con un piede che credi tu sia giusto e poi alla fine ritrovarti a dover spendere dieci volte quello che avresti speso inizialmente quindi da questo da questa chiacchierata di mirko gasparotto stavo ragionando su una cosa perché in realtà questa chiacchierata è un corso di formazione all'interno appunto questa chiacchierata è all'interno di questo corso di formazione stavo pensando di raddoppiare quelle che mi sono le mie parcelle perché ritengo che quello che io chiedo adesso è poco perché il valore che io do al mercato è altissimo quindi ti racconto una storia c'è un uomo che ha un problema al motore e due tre giorni che sento questo rumore al motore e decide di andare da un meccanico meccanico apre accende la macchina apre il cofano e gli da due martellate tempo 5 secondi gli dice guardi a posto il tipo accende la macchina il motore non c'è più fa cosa le devo a mi deve 500 euro 500 euro così tanto per due martellate sono i 500 euro per le due martellate ma sono i 500 euro per sapere dove dare le marmellate le marmellate è fantastico le martellate quindi ragionate su questa cosa ragionate piuttosto che ascoltare gli altri dire ma fai così fai colà poi dopo le persone vengono sottoscritto per risolvere i problemi perché hanno delle beghe hanno dei problemi adesso vi leggerò un po di lettere che arrivano ai locatori da parte degli inquilini furbi e ve le leggerò in qualche video adesso non ho ancora avuto tempo perché ci vuole sono un po di preparazione a farlo farlo anche nel modo giusto perché altrimenti sembra uno scemo e allora bisogna prepararle nel modo corretto in modo tale che quello che espongo lo possiamo ragionare e lo posso descrivere in modo corretto e preciso altrimenti sembra veramente una lettura di una lettera così senza senso quindi va preparata e ve lo far vi farò sentire ascoltare che cosa scrivono gli inquilini e poi la pubblicherò le pubblicherò anche alcune lettere inviate da questi qui ai proprietari quindi i proprietari anziché buttar via magari dei soldi per delle stupidate che poi uno li può spendere li può investire come vuole però cercate di investire bene nella vostra locazione facendo le scelte bene nelle sette corrette fin dal primo giorno voi non potete pensare che grazie a un video di youtube che state magari guardando in questo momento vi qualcuno vi debba dare delle informazioni gratuite ma voi che cosa avete dato poi al mercato avete dato solo i vostri braccini corti e il tener stretto il vostro portafoglio o comunque voi comunque avete dato al mercato qualcosa cioè avete investito in qualche cosa quindi non pretendete perché oggi è tutto gratis di pensare di risolvere la vostra situazione semplicemente perché vi è dovuto non è dovuto assolutamente nulla quello che io condivido con voi sono comunque esperienze sono investimenti di tempo perché fare questo video e poi caricarlo tagliarlo il mio team le ragazze scrivere insomma c'è dietro un lavoro molto importante quindi voi non pensate che sempre ci sia tutto gratis anch'io pensavo che vengo da una famiglia molto modesta mio padre faceva il pescatore mia mamma la casalingua la casalingua casalinga e altri due eravamo tre fratelli tre figli insomma maschi io sono l'ultimo della squadra e pensavo che si potesse crescere semplicemente risparmiando ma certo lo puoi fare ma poi lo devi fare in quale modo facendo gli errori facendogli sbagli invece se non vuoi farli vuoi un ponte che crei che ti porti dal piano del punto a al punto b questo ponte te lo può dare qualcuno ma dietro un compenso quindi questo ponte ti serve a non fare tutti quegli errori che faresti da solo e ci metteresti forse dieci anni per farli quindi ragionate attentamente su questa cosa questa cosa è molto molto importante quindi che voi decidiate di entrare in consulenza con me o di affidarmi la vostra pratica locatizia per me non è importante cioè importante che riesco a trasmettervi qualcosa in questo momento che per me è più importante scusate la ripetizione delle parole però nel momento in cui decidete di affidare una pratica che l'affidiate sottoscritto oppure no ragionate su questa cosa non potete pensare che investendo 50 100 euro risolviate il vostro problema se vi va di culo lo potete risolvere certo non sono qui a dire che è impossibile attenzione non fraintendetemi però per la maggior parte delle situazioni che viviamo in italia che viviamo fra gli uffici dove tutti sono di fretta dove tutto fa tutti fanno tutto dove bisogna macinare 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 senza fermarsi a ragionare e dare il giusto valore alla persona il giusto ascolto alla persona le giuste considerazioni alla persona che hai davanti che può essere un cliente un locatore un proprietario che sia oggi è praticamente impossibile tutti fanno tutto tutto per tutti e poi non fai una cosa fatta per bene naturalmente io ho fatto una scelta che è difficilissima fare una cosa ma fatta bene in questo modo al locatore posso dare le risposte che questo cerca le risposte che questo cerca non deve andare dall avvocato per chiedere una cosa che poi neanche l'avvocato con tutto rispetto spesso non lo sa perché anche lui ha 50 mila cose per la testa da fare e non può essere aggiornato per ogni virgola che la disciplina cambia le cose cambiano perché spesso non lo sa non lo sanno e poi vabbè adesso non voglio infilare il coltello nella piaga vabbè poi non potete andare al commercialista che molto spesso i commercialisti anche loro sono berati da 50 100 mila adempimenti quindi non ce la fanno a darvi quel giusto ascolto questa la giusta considerazione e farvi fare tutti quei passi necessari per mettervi in sicurezza è impossibile assolutamente impossibile ma tanto ho una persona che mi possa assolutamente dire chi è e ha il marito commercialista e mi ha confermato quello che vi sto dicendo in questo momento il mio marito certe cose che lei mi ha detto signor martinazzi non le sa non le conosce ed il suo marito è commercialista e se mi stai guardando tanto hai capito di chi sto parlando quindi è così è come vi sto dicendo poi l'avrete capito e percepito voi direttamente quello che vi sto dicendo perché tanto basta girare fra gli studi dei commercialisti o degli avvocati o delle associazioni per rendersi conto effettivamente di com'è la storia quindi vai lì porti il tuo contrattino ti dà il tuo pacchettino vai via se contento ma non è assolutamente così che funziona quando il locatore il proprietario mi affida una pratica locatizia ci sono diverse sessioni di consulenza per capire com'è la storia poi ci dobbiamo sentire diverse volte successivamente per mettere a posto tutti gli accorgimenti che ci sono ci sono tante sfumature tante considerazioni naturalmente su questo video gratuito non vi posso assolutamente dire e non ve lo voglio assolutamente dire se volete conoscere certe cose comunque c'è il mio video percorso è un corso di formazione per i locatori che dura 12 14 ore è contenuto tutto tutto quello che vi ho appena detto contenuto tutto adesso non ve la voglio far lunga cliccate su affittaconforbizia.it e li scoprite che cosa effettivamente c'è quindi ragionate su questo su questo punto e investite su voi stessi investite sulla vostra formazione se volete far da soli perché non vi è dovuto assolutamente nulla se vi è dovuto qualcosa naturalmente dovrete aprire il portafoglio e corrispondere al lo specialista al professionista quello che effettivamente vi sta chiedendo in caso contrario adesso sono deciso se questa settimana il prossimo mese di raddoppiare la mia parcella oppure no ci rifletterò su questa situazione ma penso proprio di di farlo quindi da mickey martinassi da questa meravigliosa chiacchierata cesenata e tutto a presto